Dal libro del Deuteronomio In quei giorni, Mosè salì dalle steppe di Moab, sul monte Nebo, cima del Psiga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda, fino al mare occidentale, e il Negeb, il distretto della valle di Gerico, città delle Palme, fino a Soar. Il Signore gli disse, questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Beth Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva centoventi anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per trenta giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande, con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Sia benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra i viventi. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del Suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le Tue opere. Sia benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra i viventi. Venite e vedete le opere di Dio, terribili nel Suo agire sugli uomini. Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della Sua lode. Sia benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra i viventi. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, inarrerò quanto per me ha fatto. A Lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Sia benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra i viventi. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico Tutto quello che legherete sulla terra Sarà legato in cielo E tutto quello che scioglierete sulla terra Sarà sciolto in cielo In verità io vi dico ancora Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo Per chiedere qualunque cosa Il Padre mio che è nei cieli Gliela concederà Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome Lì sono io in mezzo a loro